20 agosto 1882 nasce enrico toti bersagliere patriota eroe della prima guerra mondiale appena a 14enne si imbarcò nella marina militare spirito avventuroso nonostante l'amputazione d'una gamba a causa di un incidente intraprese in bicicletta il giro del mondo interrotto per offrirsi volontario allo scoppio del primo conflitto mondiale dopo molte difficoltà nel gennaio 1916 ottenne di essere arruolato in tutte le operazioni di guerra sebbene ferito più volte fu sempre tra i primi a lanciarsi all'assalto fino a quando durante la sesta battaglia dell'isonzo colpito dai proiettili austriaci continuò ad incitare i compagni all'assalto e spirò lanciando al nemico la stampella con stoicismo degno d'un'anima appassionatamente italiana vittorio emanuele terzo gli conferì la medaglia d'oro al valor militare oltre a una vasta toponomastica gli furono intitolate scuole monumenti una legione ferroviaria nonché due mezzi sottomarini uno della regia marina e l'altro della marina militare a roma sua città natale è omaggiato con tre monumenti al pincio nel parco di villa borghese a porta pia dedicato ai bersaglieri e nel giardino di una scuola a lui intitolata